Gianluigi Fioriti, perché E-Distribuzione oggi ha il premio Dona il più grande evento dei consumatori in Italia? E' una presenza della nostra di E-Distribuzione che è consolidata e anche un momento nel quale presentare il nuovo Smart Meter, il nostro contatore elettronico seconda generazione che chiamiamo Open Meter. Che è proprio un contatore 2.0, perché? E' un contatore voluto che segue il contatore elettronico che abbiamo introdotto a partire dal 2001, abbiamo introdotto 32 milioni in Italia, è stata una punta avanzata al mondo che ha permesso di cogliere benefici per tutta la collettività. Dico oggi che facciamo 450 milioni di letture, 10 milioni di operazioni da remoto e oggi sulla base anche dell'esperienza consolidata introduciamo un nuovo Meter che introduce funzionalità aggiuntive. Per esempio, quali tipi di funzionalità e che tipo di relazione e interazione creano con il consumatore? Sono funzionalità di assoluta importanza, il cliente è al centro e il consumatore è al centro. Attraverso questo Meter garantiamo una consapevolezza dei consumi, leggeremo ogni quarto d'ora i dati di consumo, li renderemo disponibili con facilità a tutto il sistema, ai consumatori, attraverso il rapporto con i venditori. Tutto questo facilita una consapevolezza profonda dei propri consumi. Al tempo stesso il contatore è anche intelligente nel senso che comunica l'atto smart home e quindi abilita servizi di domolitica, abilita servizi di smart home evoluti. E al tempo stesso attraverso la sua configurazione permetterà di poter fornire a cura dei trader tariffe innovative, tariffe in ottica prepagata, tariffe stagionali con più fasce, con prezzi dinamici. Quindi facendo evolvere anche tutto il sistema del mercato elettrico in un'ottica di consapevolezza dei consumi e di poter calettare le proprie esigenze con le tariffe.